Ma qual è la differenza tra diffamazione e calunnia? Chiariamola questa cosa. Per il codice penale, quando semplicemente offendo qualcun altro e lo faccio in sua assenza ma alla presenza di più persone, commetto una diffamazione. Viceversa, la calunnia è una vera e propria accusa falsa che fai contro un'altra persona all'autorità giudiziaria oppure ad un'altra autorità che dovrà riferire all'autorità giudiziaria. Cioè, tu pur sapendo che io non ho commesso un reato e ne sei assolutamente consapevole, vai lo stesso a denunciarmi accusandomi di averlo commesso. È chiaro che anche la calunnia contiene in sé un'offesa alla reputazione del denunciato però qua c'è l'ulteriore pregiudizio dell'apertura di un procedimento penale ingiusto a carica del denunciato ed è questa una differenza che si riflette anche in termini di pena perché per la diffamazione parliamo di una pena pecuniaria o se aggravata fino a tre anni di reclusione mentre per la calunnia parliamo di una pena che parte da due anni e può arrivare fino a sei anni di reclusione. È il diritto penale. Che stè?